Luigi XIV, il Re Sole Luigi XIV di Borbone, detto il Re Sole, l'Erua Soleil, o Luigi il Grande, Saint-Germain-en-Laye. 5 settembre 1638, Versailles, 1 settembre 1715, è stato membro della casata dei Borbone nonché il 64esimo re di Francia e 44esimo di Navarra. Regnò per 72 anni e 110 giorni, dal 14 maggio 1643, quando aveva meno di 5 anni, fino alla morte nel 1715, quando ne aveva quasi 77. Fu il monarca più longevo della storia francese e uno dei più longevi di tutta la storia europea. Luigi XIV è noto soprattutto per la sua politica di assolutismo, che portò la Francia a un periodo di grande splendore e potenza. Egli era un convinto sostenitore della teoria del diritto divino dei re, secondo la quale il sovrano è un rappresentante di Dio in terra e quindi gode di un potere assoluto, non soggetto a leggi o controlli. Luigi XIV fu anche un grande patrono delle arti e delle lettere. Durante il suo regno, la Francia divenne un centro di cultura e lusso, e la corte di Versailles divenne un simbolo del potere e della ricchezza del regno. Infanzia e giovinezza Luigi XIV nacque a Saint-Germain-en-Laye, vicino a Parigi, il 5 settembre 1638. Era il figlio del re Luigi XIII e della regina Anna d'Austria. Alla morte del padre, nel 1643, Luigi XIV divenne rea soli 5 anni. A causa della sua giovane età, il regno fu retto dalla madre e dal cardinale Giulio Mazzarino, che fu un abile primo ministro. Luigi XIV ricevette un'educazione rigida e completa, che gli permise di sviluppare le sue capacità di governo. Studiò storia, filosofia, diritto e religione. Il regno del re Sole Nel 1661, alla morte di Mazzarino, Luigi XIV assunse personalmente il governo del regno. Era un sovrano ambizioso e determinato a rafforzare il suo potere. Luigi XIV fu un sostenitore convinto dell'assolutismo. Egli credeva che il re fosse un rappresentante di Dio in terra e che quindi godesse di un potere assoluto, non soggetto a leggi o controlli. Per rafforzare il suo potere, Luigi XIV limitò i poteri della nobiltà e della borghesia. Creò un esercito permanente e un sistema di spionaggio, che gli permisero di controllare il paese. Luigi XIV fu anche un grande patrono delle arti e delle lettere. Durante il suo regno, la Francia divenne un centro di cultura e lusso, e la corte di Versailles divenne un simbolo del potere e della ricchezza del regno. La politica estera Luigi XIV fu un grande stratega politico. Durante il suo regno, la Francia fu coinvolta in numerose guerre, che le permisero di espandere il suo territorio e il suo potere. Le guerre più importanti combattute sotto il regno di Luigi XIV furono la Guerra dei Trent'anni, 1618-1648, che portò alla fine della Guerra dei Trent'anni alla preponderanza della Francia in Europa, la Guerra Franco-olandese, 1672-1678, che permise alla Francia di conquistare la Franca Contè e l'Alsazia, la Guerra di Successione Spagnola, 1701-1714, che portò alla fine della dinastia degli Asburgo in Spagna e all'ascesa dei Borbone al trono spagnolo. La fine del regno. Gli ultimi anni del regno di Luigi XIV furono segnati da una serie di difficoltà, tra cui la Guerra di Successione Spagnola, che si concluse con la sconfitta della Francia, e la crisi economica. Luigi XIV morì a Versailles il 1 settembre 1715 all'età di 76 anni. Fu un sovrano controverso, ma anche un grande protagonista della storia europea. Il suo regno, che è stato definito il secolo di Luigi XIV, fu un periodo di grande splendore e potenza per la Francia. L'eredità di Luigi XIV. Luigi XIV è una figura complessa e controversa. È stato un sovrano autoritario, che ha limitato i diritti della nobiltà e della borghesia. Tuttavia, è stato anche un grande stratega politico.